Il totale delle persone attualmente positive è di 95.262, con un incremento di 1.195 pazienti, positivi in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda il numero dei deceduti, questa sera il numero dei deceduti è 552. Il totale dei guariti sale a 26.491 e oggi abbiamo un nuovo record di guariti 2.099 in più rispetto al dato di ieri.